Ciao amici, oggi poi questa, poi con questa versa facciamo una torta tavana. Prima cosa dovete pulire la panella versa, poi le tagliate a striscioline e le sbollentate per un minuto in acqua salata. Allora adesso mettiamo nella padella olio, cipolla, olio, acqua, olio, di bassa credo, aglio citrato, cipolla. Buona, buona, mi piace, l'ho chissata, l'ho chissata, l'ho chissata, l'acqua, poi me la bello. Mi piace, è stato a cuocere un pochino. Lo facciamo rosolare, poi ci aggiungiamo lo specchio, poi uniamo la versa, sale, pepe e facciamo cuocere per 5 minuti. E adesso mettete della cosa in uova e sale. E' tutto bello. Perchè circola un pochino a meola, per metterci la panna secca, per fortuna che non è caduta. Piccolo un pochino prima. E per metterci il pomazzo, prima siate un pochino. E' la prima volta che la staglio. E' un pochino. E poi mettete la versa e lo faccio. Perchè non mi piace, ma no. E' tutto ottimo. Piccolate tutto. Adesso prendete la panna secca, per metterci la panna secca, per metterci la panna secca, per metterci la panna secca. A 210 gradi per 20 minuti. è una torta otta carica, per metterci la panna secca, per metterci la panna secca. Questa ricorda abbiamo anche tutta.